Ascoltatemi bene attentamente ragazzi, se volete raggiungere al più presto la base di manutenzione sotterranea del Metal Gear, ora che avete fatto la torre di comunicazione e avete superato la torre A e la torre B, adesso siamo nel fondo del nevaio. Dobbiamo trovare l'ingresso e la base sotterranea. No, chi è che ci sta sparando addosso? Non ditemi che è di nuovo Sniper Wolf. Se è di nuovo Sniper Wolf, la uccideremo subito. Snake, sta bene? Otacon, ci sono altre mimetiche ottiche in giro? No, ne avevo solo cinque. Allora questo non ha una mimetica ottica. Ma di chi stai parlando? Qualcuno mi sta sparando addosso, perfino in mezzo a questa tormenta. È lei! Wolf, Sniper Wolf. Sì, è lei, è sicuramente lei. Otacon, sembra quasi che ti sia contento. No, non lo sono. E allora che hai? Snake, era un piacere non ucciderla. Ma sei matto? Ti supplico, lei è buona. Se avessi parlato con lei lo sapresti anche tu. Stammi a sentire, ragazzo. Quella è una spietata assassina. Ti vedo perfettamente da qui. Ha, ha, ha. Il nuovo buono. E' un proiettile dritto dal mio fuggile al tuo cuore. Per favore, Wolf, Snake, no! Zitto, non immischiarti. Ora pagherai per Meryl. Voi uomini siete così deboli. Non riuscite mai a finire ciò che iniziate. La pagherai per Meryl.